Come superare la paura di parlare in pubblico? Quali sono i trucchi per evitare di sentirsi bloccati o di avere la bocca secca? Chissà quante volte sei rimasto chiuso nel tuo guscio, hai rimandato esami, hai rifiutato delle promozioni, proprio per paura di parlare. Pensa che secondo alcune statistiche la paura di parlare in pubblico è seconda dopo la morte. Io, da adolescente, ero terrorizzato all'idea di dover porre una domanda agli insegnanti. Figurati se poi pensavo di occuparmi di formazione da grande o di parlare per ore davanti ad un microfono. E non ti sto dicendo che la paura sia sparita. Col passare del tempo, con l'aiuto di alcuni trucchi che stai per scoprire, sono riuscito a controllare ogni preoccupazione. Mettiti comodo davanti al tuo computer perché fra poco ti svelo le strategie che io stesso ho utilizzato e utilizzo per affrontare il pubblico. Grazie. 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 Grazie.